La fontana cosiddetta del carciofo a piazza Trieste e Trento rientra in funzione dopo il restauro. Uno dei simboli della piazza dagli anni 50 era stata danneggiata dagli agenti atmosferici e dall'inquinamento cittadino. L'intervento rientra nel progetto del comune monumentando Napoli, un incontro tra pubblico e privato per il recupero dei beni culturali della città. Sui 76 metri quadri che fanno anche da rotatoria per la circolazione si sono completati dunque gli interventi sul verde esterno, la pulitura, la lucidatura e protezione del monumento ed infine il ripristino dell'impianto di illuminazione e idrico. Questo è frutto di quella sinergia tra le istituzioni e quel mondo dell'economia e dell'imprenditoria che ha aderito all'appello per le sponsorizzazioni per il restauro dei monumenti. Ne stiamo facendo tanti, uno dietro l'altro e questo è un altro, piazza Trieste e Trento, la cosiddetta fontana del carciofo. Andiamo avanti così che è il modo migliore per restituire Napoli alle sue bellezze e metterle in sicurezza. Grazie. 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 Grazie.